Vedi, vai sotto il suo arco OPLÀ Ma sei una merda Adesso New game per i Super Fighting Bros Nuova formula, nuova serie Si chiama salvataggio ogni metro Si chiama emulatore con i Super Emula con i Super No vabbè, ma noi emuliamo sempre Emuliamo solo quando Finiamo il livello, salviamo E poi ricominciamo da lì Ma non carichi quando muori una volta Carichi quando si muore tutto, cazzi tuoi Ma non è che ti giustifichi No, mi giustifico Facciamo ovviamente una lamerata per finire Prima di più Save in continue Spero, salvo io Non ce l'ha genito Che comoda questa sedia nuova di Adalbis Che noi voi non avete Perché ovviamente non le faccio usare Le sedie nuove a loro che me le rovinano Salvato Me la giarrotta una, Ray Non l'ho rotta io Ah si? Si si l'abbiamo fatto a te Ma è ovvio, è lei che rompe sempre tutto I coglioni La sedia Aspetta Oh, si suicidiamo Ma io ho fatto che lacchi tu C'è un game LACCHI TU 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 Atta dai, tre ore Non l'abbiamo ancora visto sto pezzo comunque La vita, si è vero, un'altra volta l'avevo visto Mi piace E ora sono felice Ma dai Ho Oh Bravo Lauren Continua Secondo me Cool airlock ci delivera All'ottavo mondo Io lo dico lì Perché Prendiamo qualcosa di più grande rispetto a tutti è vero? non è meglio di sputarlo di sputarlo si chiama fungo non l'abbiamo più visto ma neanche il fiore già è un utopia l'hanno messo il fungo in sto gioco ma guarda che è il primo super mario era solo il fungo non c'era altre evoluzioni guardate che il mio sarcasmi ma non c'era un cazzo di sarcasming e dovevi avere proprio perceping a livello altissimo ma il mio era proprio un sarcasmi in alto livello perchè non si capì sarcasmi a livello 100 perchè era palesemente un'affermazione era palesemente un'affermazione adesso preoccupati di meno preoccupati di meno minchia va devi neanche vai non è ovissimo occhio come è come si piega ah si scalano questo è il primo super mario dove si abbassava è anche il primo super mario dove c'è in effetti ma dai ma com'è sai cosa devi fare dalla dalla pianta sapete questo è il primo super mario dove mario c'ha i baffetti no in realtà c'è altri giochi di mario quella di questo c'è quello arcade che non ha mai baffetti mi fa morire uno di queste cose perchè c'è pure il silenzio perchè hanno il dubbio e le due stanno zitti ma allora ma giochi solo te quindi si tra l'altro ma non è il tuo che vuoi hai già caricato 8 volte non sono mai caricato io ragazzi ti ha cambiato le elezioni qual'è successo? sta prendendo una pagina io ve lo giuro ci siamo è il momento di vediamo oggi la promozione di questa settimana è il momento di stai navigando con il web di google download raccomandato aggiorna è bello che sembra no è giusto vedi che lo fotte perchè sembra l'aggiornamento di chrome ma non è l'aggiornamento di chrome ti stai dicendo che no non fa l'aggiorna eh c'è l'immagine di chrome come fosse da aggiornare invece no stai navigando lento Ray accelera 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 perchè tu ci sono i programmi che migliorano l'autoconnessione internet proprio voi non capisci un cazzo ma possiamo finire questo livello che è bello l'autunnale però sta anche rompendo il cazzo ma a me è rompendo il cazzo che sono l'unico che va avanti questo cazzo di cazzo no tu non hai capito noi andiamo a tema adesso è autunno per tutto l'autunno avremo questo livello per tutto l'autunno perchè mi guardi male no è il mio mondo hai rimani gelate gelate con gel ho preso un po' di pulere io ho sempre le mani ghiacciate io mi vergogno a volte a dare la mano a un cliente perchè fanno tutti così fanno così un attimo perchè sei un tipo freddo ma perchè devi sempre urlare quando muori perchè devi sempre urlarci sopra quello che diciamo io e Ray non possiamo colloquiare tranquillamente perchè lui fare è un bambino autistico è un bambino autistico l'altra volta che è cominciato a fare l'altra volta è cominciato a fare eeeh eeeh quarta d'ora noi cerchiamo di parlare più forte di lui ti dà bo sui nervi nel tipo perchè noi dobbiamo urlare più forte di Loc sempre solo che lui viene naturale io lo faccio per voi fa morire ma cosa stai facendo fa morire al pub quando andiamo che al pub perchè noi conoscono tutti l'Irish pub di Asti che lui parla veramente ad un'altezza vocale altissima e lo sentono tutti ma perchè hai di nuovo mille vite? ma stai morendo di continuo? perchè la prendo ogni volta ne ho due hai caricato di nuovo non ho caricato di nuovo non ho caricato di nuovo ho caricato sia una merda ho due vite solo ho due vite ma ti sta mettendo di brutto ma di brutto lo so ha fatto quattro vite è un quarto d'ora che gioca ho due vite ho due vite no no lei è vero è vero ma non è un vero un cazzo basta che lo dici voglio giocare di più ho due vite un amico lo capisce e lo fa giocare mamma mia invece no devi usare la scusa che io non ho il sotterfugging usa Locke beh perfetto in bocca ti ha sparato proprio tu devi usare le tue truccherie perchè la gente non vede ma entra in diversibilità per favore puoi darlo a Ray che ce lo fa e no ci sono ancora due vite ma ancora due vite perchè se ogni volta ne prendo una Giovanni è un segreto e quindi non vanno il suo game over due note esiste proprio ma sei una merda o cazzo tuoi dai sei un po' io no cazzo tuoi gioco io però potenzialmente questo livello è free cioè gratis proprio free nel senso si ma è per quello che ha sempre il gioco quattro ore nessuno diceva niente ma a me è giusto così GIOCA se non me lo tiene merda no 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 potenzialmente è infinito cioè no scusate è infinito io stai dicendo un'altra cosa però mi fate sclerare la voce potenzialmente puoi farlo all'infinito comunque che bello lo fai all'infinito adesso no puoi non morire continuare questo livello per quello che è free perchè hai vita infinita ho cancellata tra un po' se arrivi fino qua cancella la vita con un FA DC cancella se non sai cos'è un FA DC si puoi andare a vedere le termine longe di picchiatura no non andate basta tanto l'hanno già visto tutti ormai quanto l'ho detto ah cazzo ma lascia andare con calma perchè mi dovete far consumare i polmoni perchè è difficile sto gioco no veramente non è ovvio qualcuno l'ha ripreso e l'ha messo diciamolo perchè poi c'è la gente che oh io ero un figo qui posso saltare dici da qui voi che siete scarsi non hai più si si ce la fai così sei potuto e no prendi un minimo di rincorsi tanto la rincorsi ma si dai dai che non è giusto la rincorsi non ci arriva ma che cosa fai non ci arriva qua c'è qualcosa qua devi saltare dal tubo no devi accelerare devi correre sul cosi non sei correre sul cosi accelerating però non hai capito secondo me devi saltare dal tubo accelerato tubo accelerato così mi spara o magari vai giù dal tubo tipo su per il pezzo pensa pazzesco noi non proviamo i tubi mai ma va 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 ma va 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 lucky tu lucky tu ma cos'è lucky tu è lui quel cosone la sopra la vita non ce ne la vogliamo si chiama lucky perchè io non faccio il lamer come te il lamer ah già è vero che tutto ciò che ti dà il gioco in più è il lamerizzato esatto tu giochi con la vita sola dall'inizio alla fine arriva prima lui o la vita che fa ah 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 no ormai non hai più capelli lunghi non hai più sempre metallaro come avanti attuti lì gli avanti e lì creare che loco ragazze EGG! Questa è una stratega log Perché in effetti non ha cagato nessuno Siete dei nabi schifoni Noi mettiamo le cose segrete e voi non le trovate Disgusting Salta tutto Finiamo sto levels Guarda che salviamo bene Salviamo proprio bene C'è un salvataggio bene Qui Cosa? Ti prego 8 o 3 bastardi Salva Vedrai che il castello finale lo facciamo 6 volte 6 volte è abbastanza ottimistico 15 6 vite Abbiamo addirittura più vite del normale 6 vite Che scorretti Ma è impossibile farlo Sapete che con il nostro Andy Con il nostro modo di giocare non lo finiremo mai Bello Quindi sono mille martelli Ma c'è il muro C'è il muro di Berlino C'ho le mura di Bowser C'ho le mura di Stronghold Crusade 2 Che ci sono tanti fan Hanno risposto Tanti fan e due E' già tanto su 6 commenti E' già tanto perchè tanti non scrivono Ma vai avanti no? Che te ne fotte Cos'è? Non è un picchiaduro Vai avanti Lì c'è qualcosa di sicuro Ma non è vero E le akitu difendono sempre qualcosa Bravo Giovanni Ma si non mi serve Ma gli akitu difendono sempre qualcosa Ma gli akitu difendono sempre qualcosa E gli akitu E gli akitu E gli akitu Bravo Giovanni Ti stiamo salvando Eeeh Perché tu non ti raccogli Vai avanti No veramente stai scherzando Stai scherzando E' come stai tranquillo Perché tanto veramente Non serve il fungo che non lo prendi Vai 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 ti prego Seguito quel proiettivo Magari c'è un bonus se lo porti alla fine E' pieno di Amber Brualales qua E' giusto così Sono tutti dei Bowser Ma sei un coglione Hai esitato Come quella volta che avevi fatto incazzare E volevo insultare la madre di qualcuno Era sua Era sua Perché hai esitato proprio Esiting Ho preso una mosca Si ma adesso questa non è difficissima La persona va avere quella Oh Perché l'ho liberata Perché sono bravo Va bene Perché sei quello buono dei su Sei un coglione Ma perché voglio ammazzare questi figli di puttana Perché è il castivo verico Mi chiamalo Ammazzati tutti Invece Amber Brualales è buono No io non sono malvagio Siete voi che I da fastidio I da fastidio Arei i da fastidio Percepite la malvagità che non c'è Avete perceping basso sulla malvagiging di Ed Basta sto ing E tu che lo fai Infatti A voi mi piace Eh allora fatto Ma poi sono molto stupido Si Infatti Infatti parlano già Sono molto stupido Si dai puoi giocare Dai il bisogno di tanto Puoi aggiungere Doppio Doppio Puoi aggiungere questo Ma il palpaggio è stupido anche Non è stupido È vero non sappiamo Bravo Meno spoiler Non diciamo Ma quanto gioco? Quanto giochi? Adesso muoio e fai giocare la ragazza Adesso muoio e fai giocare la ragazza 6 lives proprio Quindi Muoio muoio e fai giocare la ragazza Tanto è inutile con una vita Ma voglio provare a fare speed running Speed running ready Non puoi fare speed running comunque con le piante Te lo impediscono Ma no Devi fare Perché devi fare la cosa La velocità costante Fai carica No no Non puoi proprio perché c'è comunque Poi non puoi Ci sarà sicuramente Però Anche con il fuoco Anche con il fuoco Quindi potremmo addirittura vedere il fiore No Eh col fiore i Perché picchi I brothers del cazzo Perché picchi lungo Picchi Però è qua come faccio a prenderlo Ma sei un coglione E io le dodo sopra E poi vado sotto No aspetta dai 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 Allora Io caricarei Ma perché no adesso no eh Un minimo di corretting No 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 Abbiamo detto corretting giusto è questo Le regole le abbiamo dette E quelle rimangono No noi non siamo come le regole Che di cinque minuti cambiano Dignelo Però almeno no Non carico Oh 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 Aspetta Stai un attimo se reining Vai Ecco È bastardo però Come ho fatti No c'è nel fungo È vero È il secondo Eh ma ci arriva ancora Sì Vai Eh ci sono intercetti Vedi Bravo C'è intercetti in alto Che punto è che in final 14 non ci sono le skill comunque Ma cosa fai Cosa vuol dire non c'ho le skill Ma perché te lo porti dietro Ma ci sono le skill Non c'è percepire Ma non stai pensando Ma perché c'erano le skill Certo che c'erano E ma perché adesso c'erano wow Anche in wow ci sono le skill comunque No non c'erano più Si No non tolte Si Ma va No no scusami le lavorative hanno una skill Non le lavorative Non c'erano le skill Cioè non c'erano la sword No No? Forse all'inizio l'hanno tolto No non c'erano mai stato Ah sì era una cazzata Non serviva a niente Non serviva a niente Quindi l'hanno tolto Perché hanno cambiato tutto i vuoi Adesso non farà Ma aspetta fallo andare Mi piace Mi piace Mi piace Adesso OOOOOH 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 Eeeeee Acora Se uno vuole Era speed running quello Stai sotto l' arco Quando fa così Quando fa così Ti ha la possibilità di andare Bravo Lui sape perfetto Se volessero tirare i martelli e sta fermo No, lui ogni tanto salta Per darci la possibilità di passare Bravo grazie Vedi Vai sotto il suo arco OPLÀ Ma sei una merda C'è che ci mette un quarto d'ora A rincorrere A metterci in moto secondo me è come Locke tu mica parti subito è come Locke è Locke che riparte a correre che riparte a correre lento speedrun in modalità è un Super Saiyan stavo dicendo che Locke adesso che ha ripreso a correre non ha ripreso ha iniziato nella sua vita a correre ha iniziato con la sua vita a correre con la sua vita a correre è una rincorsa contro la sua vita perchè la vita è lì, lui la rincorre ma non ci arriva mai è sempre lì e poi va giù profonde della vita di Locke lo sapete meglio di noi ormai io ho comunque un pochino sete vado a prendermi un po' di liquido vai a prendermi quel latte al cioccolato ancora? si vabbè ho bevuto giusto un centilitro forse anche tanto Locke punta al fiore dai ma che stronzo eh perchè l'EI ricordiamo eh perchè impara sto cazzo di gioco eh anche Locke vedo che è intercetting lo dello schillare oh 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 intanto lì ho i numbers però freddo è più buono prima era caldo è ancora caldo perchè non si raffredda in trascondi latte di soia al cioccolato che colore è questo ma non si vede perchè c'è il latte di cioccolato dentro un altro funging è proprio lo stesso eh no no è un altro ma cosa fai? ma tu hai il fungo e lo sprechi perchè sei un game sei un omnisessuale e aspetta che hai finito no 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 perchè lui io non ci gioco a lui si 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 bravo easy NEXT TIME in metal il finale di super fight di Mario non vi preoccupate torniamo fra un secondo fra un secondo no 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 no